Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Ascoltate, così è scritto in Luca al capitolo 24. Ormentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi. Ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro avete qui nulla da mangiare. Essi gli posero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro queste sono le cose che io vi dicevo quando era ancora con voi che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e rimissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. O voi siete testimoni di queste cose ed ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quanti a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Poi li condusse fuori fino presso Betania e levate in alto le mani li benedisse e avvenne che mentre li benediva si ripartì da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi adoratolo tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza ed erano del continuo nel Tempio benedicendo il Dio. Dunque Gesù di Nazareth o il Nazareno dopo essere risuscitato dai morti il terzo giorno apparve ai suoi discepoli. Si fece vedere da loro vivente e quando apparve loro appunto ricordò loro praticamente quello che aveva detto loro. ossia Gesù volle ricordargli che quelle erano le cose che lui gli aveva detto quando era ancora con loro. Cioè quali erano queste cose? Che bisognava che tutte le cose scritte di lui nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. E allora Gesù aprì loro la mente, cioè aprì ai suoi discepoli la mente per intendere le scritture. Effettivamente Gesù aveva preannunziato ai suoi discepoli che doveva soffrire molte cose e risuscitare dai morti. Infatti leggiamo per esempio in Matteo che da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli iscrivi ed essere uccise e risuscitare il terzo giorno. Questa fu una delle occasioni in cui Gesù parlò loro in quei termini, ma ce ne furono anche altre. E questo perché? Perché Gesù sapeva perché il Padre lo aveva mandato nel mondo. affinché naturalmente si adempissero le scritture concernenti il Cristo di Dio, ossia l'unto di Dio, secondo cui il Cristo di Dio doveva morire per appunto i peccati degli uomini. perché Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E infatti il profeta, il profeta Esaia cosa aveva scritto? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E Gesù sapeva anche che doveva risuscitare dai morti proprio sempre per la stessa ragione perché così appunto doveva accadere secondo quanto scritto dai profeti. Infatti Davide aveva parlato della risurrezione del Cristo dicendo Anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. E in un altro luogo Davide predisse la resurrezione del Cristo appunto con queste parole che sono scritte nei salmi Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Dunque Gesù sapendo che queste cose erano state scritte del Cristo che doveva venire nel mondo e naturalmente sapendo che Lui era il Cristo aveva appunto preannunziato ai Suoi discepoli che doveva soffrire molte cose a Gerusalemme e risuscitare dai morti il terzo giorno. E questo è quello che si adempì. Infatti vi annunziamo la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è quello che è chiamato l'Evangelo la buona novella che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Quindi vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo affinché mediante la fede dell'Evangelo siate salvati dai vostri peccati otteniate la remissione dei vostri peccati siate giustificati e otteniate la vita eterna scampando così alle fiamme dell'inferno dove siete diretti perché voi in quanto peccatori siete diretti in perdizione siete sulla via che mena in perdizione siete appunto su una via la cui fine è una fine orribile è una fine orribile perché coloro che l'hanno percorsa e sono morti sono morti nei loro peccati e ora si trovano appunto nelle fiamme dell'inferno di questo luogo di tormento dove appunto le anime di coloro che sono morti nei loro peccati sono tormentate e quindi credendo nell'Evangelo si viene salvati e si viene strappati alle fiamme del fuoco per cui la salvezza ricordatevi è per grazia mediante la fede non è per opere affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio non illudetevi non illudetevi se voi pensate che possiate salvarvi con le vostre opere con delle opere meritorie con dei sacrifici con delle opere giuste sappiate sappiate che vi state illudendo perché non è così che si ottiene la salvezza la salvezza è per grazia mediante la fede la si ottiene da Dio perché è Dio che ha provveduto la salvezza in Cristo Gesù mandando Gesù Cristo il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo e quindi per essere salvato l'uomo deve credere in colui che è il salvatore del mondo badate bene non uno dei salvatori come se ce ne fossero tanti no perché c'è solo un salvatore ed è Gesù il Cristo di Dio come dice la scrittura in nessun altro è la salvezza poiché non vè sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati quindi la salvezza è per grazia mediante la fede e si ottiene soltanto credendo in colui che è il salvatore del mondo Gesù di Nazareth il Cristo che è venuto nel mondo per salvare i peccatori quindi quindi ravvedetevi credete nel suo nome affinché il Signore abbia misericordia di voi e vi affranchì dal peccato vi dia la remissione dei peccati cancellando tutti i vostri peccati vi renda giusti quindi giustificandovi perché il Signore è buono il Signore è pronto a salvare pronto a salvare sì coloro che credono nell'Evangelo ricordatevi l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza per la salvezza di ognuno che crede l'Evangelo non è altro che l'adempimento quindi di quello che il Dio aveva preannunziato dov'era avvenire che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti il terzo giorno ravvedetevi e credete nell'Evangelo chi ha orecchie da udire oda l'Evangelo a l'Evangelo che che ha orecchie di l'Evangelo e l'Evangelo Grazie.